Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti da Calciotoro Allora, post partita, anzi il giorno dopo di Torino-Lazio 3-1 perché ieri non è uscito per impegni personali Dunque, è stata una partita molto scialba, molto bloccata soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo ovviamente con 4 gol si è un po' ravvivata però nulla di che, nulla di che assolutamente ritmi molto molto bassi sia da parte del Torino sia da parte della Lazio anche perché abbiamo vinto 3-1 però non ci abbiamo messo la solita grinta e soprattutto si vedeva che era una partita che non contava assolutamente nulla ai fini della classifica ma solamente per alcuni milioni, 5 milioni per la precisione in più che avremmo potuto incassare in caso di settimo posto che è arrivata e dunque 65 milioni di diritti televisivi Allora, qualche considerazione sulla partita c'è da fare Dunque, gol arrivato da rimessa laterale e finalmente per una volta ha funzionato lo schema da rimessa laterale perché ogni volta veniva messa la palla dentro la rimessa laterale e ogni volta non segnavamo Questa volta è stata colpa principalmente della difesa della Lazio totalmente assente e distratta in questa partita rimessa laterale da lontanissimo di Olaina che ha fatto un assist di mano per Iago Falc che la butta da dentro con Proto che comunque ha fatto un'ottima partita nonostante i tre gol incassati Mete non mi è piaciuto è svogliato ragazzi, sbaglia passaggi, non controlla bene il pallone poi l'imbucata per Lukic è perfetta e infatti questa è la fotografia, il ritratto della stagione di Meite una stagione potenzialmente perfetta da top player trasformatasi in un incubo alla fine per noi tifosi e per lui soprattutto in primis Quindi altri giocatori Bremer mi è piaciuto molto per carattere, per grinta e per sicurezza perché ha lasciato partire immobile poi recuperato immediatamente in corner e questo secondo me è un ottimo segno soprattutto perché il ragazzo evidentemente crede nelle sue capacità e mi sembra un ottimo erede per Moretti poi ci sono anche Lianco e Bonifazi quindi si valuterà per bene o un possibile ritorno di Glick insomma sullo scenario, sullo sfondo poi in attacco Belotti-Zazza mi sono piaciuti Lukic ha amministrato bene il pallone amministrato molto bene da trequartista è stato un esperimento interessante in cabina di regia ha già fatto qualche partita questa mi è piaciuto ha trovato anche il gol del 2-0 che si merita perché ha fatto un ottimo campionato Lukic ed è sicuramente un futuro titolare del Toro per il resto ragazzi il video è un po' corto chiaramente questo lo so benissimo però non ci sono tante considerazioni da fare anche perché abbiamo pochissime notizie di mercato e quello che si sa è che Olaina verrà riscattato dal Chelsea per 8 barna 9 milioni e stasera uscirà un video con la mia opinione e cos'altro si sa si sa che il Milan potrebbe essere escluso dalle coppe europee ci sono buone probabilità probabilmente se volete un video ripeto l'ho già detto nel video di Olaina che è registrato prima di questo ma uscirà prima questo comunque magari potrei farci un video a riguardo domani però vediamo magari in cui riassumo un po' la situazione anche se ragazzi non è cambiata molto dalle storie che vi ho fatto in cui vi ho informato sulla questione perché il Milan rischia e rischia parecchio e ovviamente è stato deferito dalla UEFA non solo per il triennio 2014-2017 ma anche per le azioni svolte nella stagione 2017-2018 quindi il fair play finanziario è stato violato in tutte le maniere possibili non ha rispettato neanche i piani insomma fatti con la UEFA quelli presentati da Fassone tra l'altro ridicolissimi comunque non voglio eleggermi a esperto di calcio e finanza sono uno che si interessa vicino sulla questione perché insomma dipende il nostro futuro dipende da questo almeno in Europa semmai ci riproveremo l'anno prossimo però sarebbe bello anche andarci anche per lo splendido campionato effettuato quindi magari faccio uscire un video riassuntivo domani ma vi posso assicurare che prima della finale di Champions non sapremo assolutamente nulla in più questo è ciò che è trapelato il Milan rischia e rischia parecchio ma più di questo non si sa ragazzi e potrebbe anche presentare un ricorso in caso di squalifica che però questa volta dubito che verrebbe accettato ciò che si sa è che il Milan comunque non ci rinuncerà di sua spontanea volontà e di conseguenza si tratterà sempre di sanzione e per forza subentrerà al Torino in caso di squalifica dunque qualche parolina sulla UEFA sulla questione Milan la mia opinione di Torino-Lazio 3-1 Torino-Lazio 3-1 allenamento anche prima dell'addio al calcio di Moretti ovviamente prima di chiudere il video spendiamo qualche parolina su Moretti e poi ci vediamo stasera col video su Olaina dunque Emiliano Moretti grande professionista oserei dire quasi una bandiera per i colori Granata sei anni con noi oltre 190 presenze il giocatore più presente dell'era Cairo uno dei più presenti della storia Granata mi pare tra i primi 60 giù di lì è un calciatore che comunque anche quando sembrava essere in difficoltà che sembrava essere arrivato il difensore che finalmente lo avrebbe sostituito ha sempre tirato fuori la sua esperienza la sua qualità ed è sempre stato un punto fermo del Toro dal 2013 ad oggi anche in Europa ha vissuto Bilbao ha vissuto gli anni in cui si rischiava di retrocedere però ha vissuto campionate mediocre campionati al di sopra delle aspettative campionati fantastici terminati purtroppo male l'Europa League insomma ne ha vissute tante Moretti con noi soffrendo gioendo con noi dunque un bacione a Emiliano Moretti numero 24 purtroppo non ho la maglietta di Moretti con cui lo saluto e dunque ciao ragazzi ciao ragazzi e ci vediamo stasera con il video di O-Line ottima chiusura di stagione adesso pensiamo al calciomercato e a insomma aspettare la sentenza UEFA ciao